La nuova linea 2 della tramvia di Firenze è realtà e tra i primi passeggeri in partenza dalla fermata Peretola Aeroporto verso la stazione di Santa Maria Novella c'è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha preso parte alla cerimonia del taglio del nastro accanto al presidente della regione toscana Enrico Rossi, al sindaco di Firenze Dario Nardella e all'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. A rappresentare il governo il ministro dei trasporti Danilo Toninelli mentre a portare il saluto dell'Europa è stata la commissaria europea Corina Cretu, una festa accompagnata dai tricolori sventolati in aria dai bambini che hanno salutato così il capo dello Stato. La tramvia, ha detto Rossi, è un'opera che concilia sviluppo, sostenibilità e crescita. Noi abbiamo creduto molto nella tramvia, abbiamo tenuto i rapporti con Bruxelles e la Toscana ha impegnato la regione 70 milioni per la realizzazione delle linee 1.75, per la verità, anche con una trentina di milioni di risorse proprie oltre a quelle europee. Quindi siamo arrivati ad un passaggio decisivo, sono 17 chilometri, gli effetti sono straordinari dal punto di vista dell'alleggerimento dell'impatto ambientale, dal punto di vista della mobilità ma anche di quartieri interi che rinascono grazie alla tramvia. Continueremo oltre a questi 75 milioni che abbiamo messo, ne metteremo altri 80 per fare fino a Bagnarripoli, per arrivare fino a Bagnarripoli e questo sarà il colpo definitivo prima della conclusione del mio mandato, che assegneremo queste risorse per realizzare anche quest'ultimo tratto. Nella tramvia fiorentina c'è molta Europa, a partire dalla campagna di comunicazione integrata di Regione Toscana e Comune di Firenze per illustrare la nuova linea ai cittadini. L'infrastruttura, infatti, è un grande progetto, notificato alla Commissione europea e cofinanziato dal programma operativo PORCREO-FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013. Nello specifico, la Commissione europea ha sostenuto il progetto con un contributo pubblico totale di oltre 50 milioni di euro, 26 cofinanziati attraverso il FESR, 13 milioni e 268 mila euro con quota statale e 10 milioni e 795 mila euro con quota regionale, soldi a cui si sono aggiunti 20 milioni di contributi regionali su un costo totale di oltre 600 milioni di euro. Siamo andati in Europa e l'Europa non è così cattiva come ci viene, basta andarci e discutere, capiscono e abbiamo detto guardate sì è vero questo settennato, mi ricordo era il settennato 2000-2007, quello di Martini, non siamo riusciti a concludere i lavori perché le ditte avevano fallite, erano fallite, però noi vogliamo proseguire su più settennati, è un progetto più ampio che non la realizzazione che adesso si conclude della linea 1, 2, 3 e quindi oltre a quei finanziamenti che sono importanti, 70 milioni, abbiamo messi altri 80 nel settennato 2014-2020 che è quello che ho gestito più direttamente come Presidente della Regione e dando questa prospettiva strategica l'Europa ha convenuto che si dovesse confermare i finanziamenti che avevamo nel settennato precedente e questo ha reso possibile che il lavoro proseguisse. La tramvia fiorentina è infatti un'opera di importanza strategica che rientra negli obiettivi della politica di coesione europea in grado di assicurare la mobilità rapida dei cittadini e la sostenibilità ambientale. La stima è che grazie ai tram saranno abbattute 12.000 tonnellate di CO2 all'anno e che 14 milioni di persone rinunceranno all'auto per usare i mezzi di trasporto pubblico. Dell'importanza del progetto ha parlato la commissaria europea Corina Cretu. Sono felice di essere a Firenze per l'inaugurazione di questo progetto con il Presidente della Repubblica, il Presidente della Regione Toscana e il Sindaco di Firenze e dimostrare come la politica di coesione europea sia essenziale per migliorare la vita dei cittadini di Firenze. Grazie al contributo di 26 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 40 milioni di più negli prossimi mesi avremo attratto investimenti privati e nazionali che hanno permesso la costruzione della tramvia già usata da oltre 58 milioni di passaggeri negli ultimi sei anni. La nuova linea della tramvia corre su oltre 5 chilometri di binari tra Piazza dell'Unità Italiana, due passi dalla stazione di Santa Maria Novella all'aeroporto Vespucci. 13 le fermate lungo il percorso che lega in modo strategico due infrastrutture essenziali della città passando da Novoli dove si trovano tra gli altri Università, Regione e Palazzo di Giustizia. Un nuovo strategico tassello nella creazione della rete tramviaria arrivato a pochi mesi dall'inaugurazione e il 16 luglio 2018 del tratto della linea T1 da Santa Maria Novella a Careggi e che attualmente conta 46 tram in servizio su quasi 17 chilometri totali di binari con due parcheggi scambiatori a Scandicci a Villa Costanza e all'aeroporto. La tramvia di Firenze è una risposta, un tassello fondamentale per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico locale per una mobilità sostenibile della Toscana. Credo che sia un risultato molto importante, complimenti al Comune di Firenze che in una legislatura è riuscito a far partire due linee della tramvia. Non ci fermiamo qui, la Regione è sempre stata al fianco di chi ha lavorato perché questa giornata arrivasse sia con i finanziamenti sia per quanto riguarda l'autorizzazione e tutto il supporto tecnico giuridico. È in progettazione l'ulteriore estensione di questa tramvia. Per Bagnarripoli, per le piagge è già finanziata, per il resto abbiamo contribuito a finanziare il progetto perché nella prossima programmazione europea saremo a chiedere nuovi finanziamenti per poter continuare. Voglio sottolineare anche questo aspetto. L'Europa che in questo caso è intervenuta e ha reso possibile anche con il suo intervento la realizzazione che, come ripeto, è una risposta fondamentale per la mobilità di tutta la Toscana. All'affollata cerimonia di inaugurazione all'aeroporto Vespucci erano presenti anche i sindaci degli altri comuni interessati dalla futura estensione del sistema tramviario a partire dalla stessa linea 2 che arriverà fino al polo scientifico di Sesto Fiorentino e poi la linea 3.2 fino a Bagnarripoli, la linea 4 dalla Leopolda alle piagge in previsione di un'ulteriore estensione fino a Campi-Bisenzio. Voglio ringraziare anzitutto i cittadini che ci hanno sostenuto, hanno avuto pazienza, la regione toscana che insieme alle altre istituzioni come l'Unione Europea ha creduto in questo progetto anche perché cinque anni fa nessuno avrebbe scommesso che in un solo mandato avremmo realizzato ben due linee tramviarie, soprattutto se guardiamo i tanti problemi che abbiamo in Italia e ogni qualvolta si deve finire un'opera pubblica non si sa mai quando si potrà. Firenze in questo senso è un modello di efficienza, di capacità, per le nuove linee saremo ancora più attenti e più bravi nel ridurre i tempi e ridurre anche i disagi per i cantieri. E in tanti già dalle prime ore dopo l'inaugurazione con il Capo dello Stato hanno approfittato delle prime corse della linea 2 in partenza da Piazza dell'Unità insieme al Sindaco e alle autorità. I primi di quei 39 milioni di passeggeri che si stima utilizzeranno in un anno il sistema tramviario fiorentino al cui funzionamento la regione contribuirà con 12 milioni di euro all'anno e che, ha detto Rossi, adesso necessita dello sblocco delle altre opere infrastrutturali nell'area metropolitana. E poi bisogna fare anche rapidamente il sottoattraversamento perché chiunque qualche volta frequenti la stazione Santa Maria Novella o prenda i treni sia dell'alta velocità che quelli regionali si accorge che in quella stazione i treni non ce la fanno più entrare e le persone sono ammassate. Quindi una stazione dell'alta velocità occorre, bisogna terminare quei lavori. Intanto, con l'entrata in funzione della linea 2 della tramvia un altro passo nella direzione di una nuova mobilità è stato compiuto. Grazie a tutti.